eccomi qua è san silvestro quindi auguri ai silvestri o se avete gatti di nome silvestro o animaletti e sono qui per augurarvi buona fine spero veramente che sia una gran fine di tantissime cose soprattutto come ho detto nel mio video della vibrazione 6 dell'anno universale e quindi speriamo che tutta questa alternanza di notizie continui e pam 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 alto basso alto basso come un grafico bipolare bipolare come ho detto sia finito perché veramente adesso siamo stanchi 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 draghetti speranze e tutto il resto siamo stanchi vogliamo stare tranquilli in pace rimetterci a fare le nostre cose soprattutto meditare in pace e essere tranquilli e così stare stare bene stare bene allora è una giornata in cui portare a termine cose ed è una giornata in cui potete anche purificare la casa in modo tale che con l'anno nuovo arrivino energie nuove e allora io vi dico fatelo con l'alloro e adesso lo faccio assieme a voi così prendere a fuoco la casa e vai no dai speriamo il computer ecco ce n'è di roba sì con tutto questo rumoretto da purificare quindi lavorate con l'alloro ripulite la vostra casa e fate in modo che tutto si allontani le pesantezze e quindi il profumo dell'alloro lo riaccendo farà in modo proprio di aiuto ecco sono proprio distrutto anche questo è ola il terzo è quello che vale bene ok qua c'è tanto da bruciare mettiamolo qui così lui lavora e pulisce lavora e pulisce e vi saluto buona notte lasciate tutte le pesantezze e fate in modo di essere pronti a ricevere in quest'anno e forti duri ai banchi ciao